bella a tutti ragazzi qui è teddy e benvenuti a un nuovo video qui sul canale un po per rompere il ghiaccio visto che oramai c'è stato il media day presentazione di nuovi giocatori numeri di maglia si stanno scaldando i motori per la nuova stagione 24 25 e questo vuole essere un video rapido breve veloce però dove vi spoilerò la mia tier list per quanto riguarda la stagione 24 25 ovvero adesso vi spiego in che ordine sono state messe le squadre arriveranno poi dei video specifici magari squadra per squadra dove spiegherò quella che è la situazione salariale le situazioni a livello di pic quello che significa per le franchigie le eventuali mosse che possono essere fatte per colmare delle lacune o per andare in certe direzioni e di conseguenza preparatevi di una sfilza di video a partire da domani fino a quando saranno finite le tutte e trenta le franchigie dove appunto andrò a fare questo lavoro di analisi squadra per squadra alcuni video saranno più lunghi e alcuni video saranno più brevi perché dipende da quanto c'è da dire sulla tal squadra e quante complicate possono essere le manovre salariali da poter fare per andare a lavorare in certe direzioni ora la tier list è stata realizzata con cosa in mente è divisa in sei scaglioni il tier s è contender a mani basse quindi una franchigia che mi aspetto che arrivi alle finals a è borderline contender quindi può arrivare verso la finale di conference può così come può arrivare alle finals ok però mi aspetto un alto livello b invece sono le franchigie che andranno ai playoff ma che secondo me non sono contender al 100 per cento e non sono neanche borderline contender e qui già si possono aprire diversi discorsi riguardo soprattutto due franchigie in particolare come memphis e denver perché per ovvi motivi e per motivi speculari o meglio più che speculari per motivi inversi perché giustamente qualcuno potrebbe dirmi ma memphis non è più contender di denver denver è molto più contender di memphis non possono andare nella stessa tier list no infatti io nella tier list non ho messo il valore delle franchigie ho messo solo il nella tier list ho messo le squadre che se le franchigie secondo me che andranno ai playoff ma che non sono contender tutto qui e sì per me denver così come philadelphia non sono contender per quest'anno certo mi baso sui roster di inizio anno poi se a febbraio marzo durante la 3 deadline succede l'irreparabile io questo non lo posso prevedere mi baso ovviamente sui roster di inizio stagione nella parte c che è un pochino più corposa ci sono quelle squadre da play in ultimi posti play off ma più che altro la fascia play in ok la fascia d sarebbe di quelle franchigie che non sono abbastanza forti per andare ai play off il che non vuol dire che non possono fare i play in perché magari houston può andare al play in però secondo me non va poi ai play off quindi sono quelle franchigie intermedie no un po quella terra di nessuno slash troppo forti per tankare spudoratamente ma troppo deboli per effettivamente accedere ai play off e poi invece abbiamo la categoria f che è proprio il tanking spudorato contro ogni regola del buon senso del buon costume di competitività dello sport in generale ovvero quelle squadre che secondo me dovrebbero tencare proprio spudoratamente per cercare di scegliere molto bene nel draft 2025 che sembra essere decisamente superiore al draft 2024 a livello di prospettiva però dobbiamo ancora vedere la classe draft 2024 all'opera e molto probabilmente non potremmo dire qualcosa di questa classe draft se non entro qualche anno è difficile che già dal primo anno a parte rari casi si possa già trarre delle conclusioni riguardo ad una classe draft soprattutto una classe draft diciamo che è stata così voglio dire presa sotto gamba alla fine nessuno adesso se io vi chiedo chi è stata la scelta numero uno al draft di quest'anno dovete pensarci un pochino secondo me alcuni avranno già risposto risasce però a qualcuno avretto ma in effetti chi cazzo è stata la prima scelta di quest'anno perché è normale il povero zaccaria non è stato mai menzionato io non credo di aver mai letto risasce in questa off season mai io non ho mai visto un workout su non ho messo niente sulle pagine social proprio niente non ho visto nulla di questo poveretto scelta numero uno al draft beh ovviamente la storia che è andata di più è quella di padre e figlio no come giusto che sia per certi versi però devo fosse una pic numero uno al draft per quanto per quanto scarsa possa essere la classe draft un po me la prenderei male però questa è la mia tier list ripeto è un video veloce voglio lasciarvi scannare nei commenti perché sicuramente ci sono persone in disaccordo perché qualcuno potrebbe dirmi ma minnesota non me la puoi mettere addirittura come squadra che potrebbe andare ai play in dopo che l'anno scorso ha fatto finale di conference o i miei motivi c'è chi potrebbe dire ma come i clippers addirittura neanche in fascia b in fascia c qualcuno potrebbe anche dirmi forse new orleans è troppo alta potrebbe andare in fascia d ad esempio miami solo in fascia c neanche in fascia b o ad esempio detroit chicago neanche in tanking spudorato la metti la metti in fascia d insomma è ovvio che ognuno alle proprie opinioni io ovviamente non vi sto ancora giustificando le mie posizioni io ancora non vi ho detto niente perché vi dirò le opinioni mie franchigia per franchigia dopo aver studiato tutto quanto della franchigia da zero da capo ovviamente non è che ho fatto questa tier list a cazzo di cane cioè non è che non so niente e ve l'ho buttato giù così io ho già fatto delle ricerche quindi ho messo giù questa tier list ovviamente il buon senso di molti che seguono assiduamente le nba possono dedurre perché washington sia in faccia in fascia f e del perché chat in x in fascia s dove siamo arrivati dove siamo arrivati chi avrebbe mai pensato vita natural durante di poter inserire i new york knicks in una fascia s di tier list dove la s è la squadra contender vi rendete conto da dove siamo partiti per chi mi segue da tanti anni vi ricordate da dove siamo partiti e dove siamo arrivati è questo che ti fa rendere conto di quanto sei diventato vecchio di come il tempo passa di come la vita cambia ti sembra di vivere in una stasi dove new york è il meme della nba dove la grande mela è una mela marcia in realtà siamo arrivati in un periodo storico dove la grande mela è è veramente una golden apple è verde bellissima come le mele di biancaneve della strega di biancaneve no quella mela lì bellissima succosa in x in fascia s cioè lo sentite il mio sorriso mentre vi parlo proprio di 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 stupore più che di felicità e di stupore dopo tutte le risate che ci siamo fatti mettere in x in fascia s comunque sì in x sono in fascia s no non è per no non è per il meme attenzione voglio però voglio essere chiaro non è una tier list meme questa è una tier list in cui nella quale credo quindi credo nei nix in fascia s attenzione immagino di conseguenza l'hype che ci sarà per quando arriveremo ai new york nix per quanto riguarda il il video di approfondimento immagino insomma l'hype attorno al insomma alla squadra new yorkese però tornando un attimo seri quindi non è che una è una tier list a cazzo di cane meme o quant'altro è ovviamente questa è una tier list tenendo conto di tante cose sia a livello di draft picks sia a livello salariale sia a livello di ovviamente di competitività del roster a livello proprio di di talento dei giocatori ok e tiene anche conto di tante altre cose che poi vi dirò nei video di approfondimento ovviamente però ecco volevo solamente rompere il ghiaccio con questa tier list giusto per darvi un attimo il come dire mettere in moto nuovamente il canale no un po come il diesel si parte piano e poi si viaggia ok io questo mese mese di ottobre sono abbastanza libero e di conseguenza posso veramente fare tantissimi video e tra l'altro oltre al canale secondario nel quale ci sono molti video già schedulati per per la fine di ottobre insomma usciranno almeno due video al giorno nel canale secondario per almeno altre due settimane se non sbaglio però per chi fosse interessato all'omento i giochi che sto portando sono armor core la serie è quasi al termine e notria della song che è un progetto italiano souls like che ho già finito anche perché il gioco non è molto diciamo molto lungo tra l'altro ho fatto un video di impressioni di e notria nel canale secondario per chi fosse interessato per chi voleva comprarlo e stava aspettando recensioni insomma potete guardare la mia recensione se volete insomma avere un'idea di quello che è il gioco e magari poi comprarlo subito o aspettare natale insomma l'anno prossimo anzi consiglio spoiler consiglio marzo dell'anno prossimo prima di comprarlo ma scoprirete per chi vuole guardare in quel video il motivo e top spin soprattutto top spin 2k 25 perché perché ho creato raffael nadal che non c'è in top spin e sto simulando simulando sto giocando una carriera con un personaggio raffa nadal style anche di faccia no proprio creato tra virgolette nadal in più vi aggiungo che ho creato altri due giocatori uno non c'è in in top spin l'altro c'è ma in versione vecchia ok vi dico solo questo e quindi usciranno poi altri episodi top spin e inoltre c'è anche moto gp ripeto nba 2k 25 ancora non l'ho comprato non ho la possibilità economica di prenderlo al momento ok quindi non posso comprarlo in questo momento quindi ecco per 2k 25 bisognerà aspettare ancora un po però sono contento del gioco come ho già detto nel video scorso sono veramente contento di come il gioco sta venendo su a livello simulativo di giocare contro il computer associazioni sapete come come gioco io sapete come mi piace giocare e vedendo il gioco effettivamente sono incredulo quasi dai progressi fatti da questo punto di vista per quest'anno poi ovviamente usciranno le classiche patch che distruggeranno il gioco perché chi gioca al parco si lamenta ma quello è un altro discorso inoltre prima di concludere il video ve l'ho detto che era un video breve prima di concludere il video vi dico anche un'altra cosa ovvero ho in mente di fare un un progetto ho in mente un progetto che richiederà tempo insensato per essere prodotto però se viene come lo sto pensando potrebbe uscire una cosa carina è una cosa che esula dalle mie classiche dei miei classici video dalle mie classiche produzioni sarebbe una produzione completamente diversa riguarda sempre l'nba tranquilli non è altro riguarda sempre l'nba ma sarebbe fatto e scritto in un modo molto diverso rispetto al normale è un progetto in cui metterò anima e corpo è un progetto in cui metterò tutta la mia passione è un progetto in cui metterò tutta la mia attenzione metterò tutta la mia conoscenza acquisita e tutta la e tutta la conoscenza che acquisirò nel fare questo progetto non ho ancora in mente quando uscirà quanto quanto lungo sarà questo progetto non ho ancora diciamo messo giù qualcosa è semplicemente un progetto nato nella mia mente baccata in questi giorni l'idea ha preso piede e devo ancora però mettere giù un brainstorm per cercare di capire come affrontare questo progetto però l'idea sarebbe quella non vi dico cosa riguarda questo progetto sappiate che però riguarda l'nba non non è un qualcosa di di altro è un progetto riguardante l'nba ma non vi dico altro per non esplorarvi niente fatemi sapere la vostra su questa tier list se siete d'accordo o non siete d'accordo riguardo alla posizione di alcune franchigie ripeto l'ordine quindi gli scaglioni in cosa consistono quindi fascia s contender a a borderline contender b squadre da playoff ma non contender c squadre da play in e diciamo quindi play play in quella fascia lì no quindi sotto alle squadre che accendono direttamente ai playoff però non che diciamo che in quella fascia play in lino la d sono squadre troppo forti per tentare ma troppo scarse per poter accedere ai playoff f tanking spudorato totale proprio senza ritegno per la nba per cercare la pic numero 1 al draft del prossimo anno fatemi sapere a ultima cosa prima di chiudere il video devo ringraziarvi immensamente per tutti i commenti dell'ultimo video quello di town sign x io sono sparito per un mese e mezzo per motivi personali per problemi miei perché non mi sentivo in grado di fare video analitici di parlare di nba il mio modo di fare coping con questa situazione era quella di registrare sul secondo canale cose un pochino meno come dire analitica infatti l'avete visto molti gameplay e tra l'altro per chi ha seguito e chi segue gli episodi ad esempio di moto gpu top spin lo sente che ero nervoso quando registravo che mi arrabbiavo più del solito che mi lamentavo più del solito perché ero proprio nervoso di mio e quindi non volevo rovinare questo primo canale con contenuti dove si sentiva chiaramente che non ero in palla dove non ero ispirato a sufficienza dove non ero abbastanza libero di mente di testa per poter offrire il solito contenuto dettagliato e tutto quello che ne consegue adesso invece sono un pochino più libero e di conseguenza sono di nuovo pronto per riaffrontare questo percorso e tutte le visualizzazioni cioè alla fine le visualizzazioni che ho fatto in quel video sono le stesse che ho fatto e forse anche di più dei video passati dell'ultimo periodo degli ultimi video che avevo caricato in quest'estate è incredibile davvero io non so cosa dire io non non posso ringraziarvi abbastanza davvero per anche tutti i commenti che cosa cosa devo dire di più cioè io non oramai è anche superfluo perché davvero è quasi ripetitivo dirlo però davvero siete siete incredibili davvero grazie mille ancora niente fatemi sapere cosa ne pensate di questa tier list e poi arriveranno tutti i video approfondimenti di tutte 30 le franchigie nba io vi ringrazio vi saluto ci vediamo un prossimo video